I carabinieri di Palagonia, a seguito di una lite scaturita all'ingresso di un bar di via Palermo tra due avventori, hanno denunciato due uomini di 25 e 39 anni per porto e detenzione abusiva di armi, nonché rispettivamente anche il primo per tentato omicidio e il secondo per furto aggravato. Immediati gli accertamenti esperiti dai carabinieri che, giunti sul posto a seguito delle segnalazioni pervenute sul 112, hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza e raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni risalendo così all'esatta dinamica degli eventi. Tutto si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, quando il 25enne, a bordo della sua Fiat Bravo, si era fermato dinanzi al bar dove, dopo un breve scambio di battute con un altro cliente di 39 anni, era scaturita una lite. Dopo le parole, i fatti. Il diverbio è sfociato in uno scontro fisico tra i due, culminato con una coltellata sferrata dal più giovane al collo dell'altro. Quest'ultimo, solo grazie a un repentino movimento, è stato colpito solo di striscio, riportando comunque una vistosa ferita che però avrebbe potuto rivelarsi mortale se avesse leso la vena giugulare. Il ferito però è riuscito comunque a mettere in fuga il suo aggressore, dopo aver rotto l'unotto posteriore della Fiat Bravo di quest'ultimo, è salito a bordo e si è allontanato, per poi abbandonare il mezzo in Piazza Umberto I, dove lo stesso è stato ritrovato dal proprietario. Solo dopo alcune ore, il 39enne si è recato sull'ospedale di Militello in Val di Catania, dove i medici, sutturata la fetita, gli hanno spiegato il grave pericolo scampato. Contrasta un sofisticato sistema di somministrazione fraudolenta di mano d'opera, frodo fiscale e riciclaggio, nell'ambito di complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica Etnea e finanzieri del Comando Provinciale di Catania, hanno dato esecuzione con il supporto dello SCICO, Comandi Provinciali di Milano, Brescia, Roma, Pesaro, Ragusa, Siragusa ed Enna, nonché del primo gruppo di Catania e delle unità cinofile, a misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di 16 soggetti a vario titolo indagati, unitamente ad altre 17 persone, per associazione a delinguere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione di redditi infedele e fraudolenta mediante l'utilizzo di FOI, ossia omesso forzamento di ritenute previdenziali d'IVA, autoriciclaggio e riciclaggio di denaro illecito. Il diffuso sistema di frode sarebbe stato alimentato dalla creazione di ben 14 reti di impresa, di cui avrebbero fatto parte 37 società con funzione di distaccanti operanti in molteplici località del territorio nazionale e 439 imprese distaccatari e dislocate in tutto il paese, utilizzatrici di personale in posizione di distacco. Nell'ambito di tali redi, caratterizzati da una regia unitaria in Catania, le società capofila avrebbero agito da meri serbatoi di mano d'opera e sarebbero state organizzate secondo le esigenze gestionali del sistema, il cui core business si sarebbe limitato esclusivamente a consentire il distacco dei lavoratori a scopo di lucro nei confronti di 439 società retiste o distaccatarie. Dopo aver cumulato un debito tributario e contributivo significativo, inoltre sarebbero state sistematicamente poste in liquidazione e sostenute da altre società che avrebbero assorbito i medesimi lavoratori, posti nuovamente in distacco a favore della stessa impresa beneficiaria. Un ruolo centrale nella realizzazione delle condotte delittuose sarebbe stato svolto da un soggetto di origine argentina e ma residente a Catania, che si sarebbe al valso di due studi di consulenza operanti nella città etnea, uno legale e uno amministrativo. Per gli organizzatori del sistema di froda e guadagni illeciti sarebbero derivati dalla presentazione di dichiarazioni di erediti infedeli e fraudolente per le società coinvolte nella frode della sistemica omissione dei versamenti, delle ritenute previdenziali dei lavoratori e dell'IVA. In soli cinque anni il fatturato delle società gestite dal principale indagato avrebbero raggiunte oltre 61 milioni di euro, a fronte del quale sarebbe stato calcolato il mancato versamento di imposte e contributi dovuti per circa 25 milioni. Gli ingenti proventi di natura illecita sarebbero stati in parte riempiegati verso specifiche società, in parte dirottati a favore del promotore del sodalizio e di altri indagati, anche attraverso una vorticosa movimentazione di denaro costante utilizzato per assicurarsi un tenore di vita molto elevato o per l'acquisto, in diverse occasioni, di beni di rifugio o di lusso per 270 mila euro. Sulla scorta delle evidenze acquisite dal nucleo operativo di Catania, il GIP Tneo ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque soggetti, gli arresti domiciliari per altri sette indagati, nonché il sequestro quote di 37 società di disponibilità finanziaria e di beni immobili e immobili riconducibili ai destinatari della misura per un valore totale di circa 29 milioni di euro. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello smercio di stupefacenti, con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga di un pusher 32enne di Catania che in un monolocale nel rione San Cocimo aveva creato una base logistica per lo stoccaggio e lo spaccio della droga, in particolare Ashish e Marijuana. Scoperto che il 32enne aveva preso in affitto un monolocale in via Ospedale Vecchio e che l'aveva adibito quale punto di deposito e stoccaggio della droga da spacciare, i militari dell'arma hanno deciso di predisporre un servizio di osservazione a distanza in modalità discreda, mimedizzandosi tra la gente del posto nei presi dell'appartamento in questione. Il momento più propizzo per intervenire si è presentato dopo qualche ora di appiattamento quando gli investigatori hanno visto l'uomo che stava per rientrare a casa, immediatamente scattato il blitz. I carabinieri hanno bloccato il pusher e insieme a lui sono entrati in casa. A seguito di una perquisizione hanno trovato all'interno di un armadio della sua camera da letto un bostone in cellofan trasparente contenente 500 grammi di marijuana. Sul ripiano della cucina hanno poi scoperto ulteriori 50 grammi di Ashish, già suddivisi in ovuli in plastica, utensili per la pesatura e la preparazione delle dosi. Nonché due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 120 euro, provento dell'attività illecita. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Augusta hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente un uomo di 38 anni che a seguito di una perquisizione domiciliare in una casa sita incontrata a Frandanese è stato trovato in possesso di 305 grammi di marijuana di un beloncino di precisione. Nello stesso contesto operativo, l'attenzione degli investigatori sarebbe stata richiamata da un rumore tipico di un sistema di areazione proveniente da un'abitazione poco distante. Gli agenti, insospettitisi del fatto che quest'ultimo immobile sembrava abbandonato e percependo tra l'altro un forte odore di marijuana, hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di scoprire una serra con circa mille piantagioni di marijuana attrezzata con sistemi di ventilazione ed essiccazione con ogni probabilità curata dallo stesso arrestato. Evasione fiscale contributiva ed esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa nei confronti di un imprenditore accusato di essere, anche grazie alla collaborazione di professionisti compiacenti, il dominus di un sistema criminoso che ha portato al fallimento pilotato di decine di società, allo scopo di sottrarsi al pagamento delle imposte per oltre 15 milioni di euro. Nel corso delle attività investigative è emerso che il restauratore, nonostante già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che gli imponeva fra l'altro di non avere rapporti con i dipendenti delle società ancora in vita, per le quali è stata avanzata proposta di concordato, ha continuato a incontrare alcuni di questi ed impartire loro disposizioni lavorative. Le fiamme gialle di Siracusa, a seguito della minuzione analisi dei bilanci societari corroborata da pedinamenti, perquisizioni informatiche, indagini tecniche e ambientali, hanno ricostruito l'intero sistema evasivo che ha portato al dissesto societario delle imprese coinvolte a causa della forte esposizione debitoria, dipendente da un modello imprenditoriale che è escluso dalla gestione sin dall'origine il pagamento di tasse, imposte e contributi. Lo schema sarebbe stato sempre lo stesso, si cambiava il nome della società, ma anche il luogo d'esercizio, la tipologia di attività esercitata e il personale. Nella circostanza, per proteggersi da possibili aggressioni patrimoniali, la rappresentanza legale della società è stata fittiziamente attribuita a un soggetto di nazionalità straniera, privo di esperienza nel settore della ristorazione. Il Tribunale Retuseo ha così emesso un primo decreto di sequestro preventivo di circa 3 milioni di euro nei confronti dell'indagato. In arrivo 65 milioni di euro per gli imprenditori agricoli in Sicilia. Lo prevede il Bando per ottenere contributi dell'intervento, investimenti per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, che riguarda il piano strategico PAC 2023-2027, pubblicato dal Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale dell'Assessorato dell'Agricoltura. Il finanziamento a valere su fondi fair statali e regionali è destinato a tutti quei soggetti pubblici e privati che intendono investire per realizzare, adeguare o ampliare la viabilità al servizio delle aree rurali o delle aziende agricole, con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili e attrattive queste porzioni di territorio spesso colpite dal fenomeno dello spopolamento. Possono accedere al sostegno soggetti pubblici o privati, iscritti alla Camera di Commercio come imprenditore agricolo o di avere correttamente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale. Le risorse a disposizione puntano a coprire il 100% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti che alla data di presentazione della domanda dovranno essere già a livello esecutivo. I richiedenti dovranno tra l'altro essere proprietari o avere la disponibilità delle aree e delle infrastrutture per cui richiedono la sovvenzione. Le domande infine dovranno essere inserite attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, il Sian, che risulterà accessibile per 120 giorni a partire dal prossimo 10 giugno. Grazie per la visione!